Dopo mesi di trattative e alla ripresa dei contatti è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti che riguarda i dipendenti di tutte le imprese e delle autorità portuali. A sottoscriverlo i rappresentanti nazionali di FIT-CISL, FIT-CGL, Wheel Transporti e delle parti datoriali. Dal punto di vista economico l'accordo viene giudicato positivamente dalle organizzazioni sindacali perché consente il recupero del potere di acquisto dei salari fortemente eroso negli ultimi anni dal fenomeno inflattivo. L'aumento al regime sarà di 200 euro mensili sulla base retributiva oltre a 120 euro annui di welfare. A questi si sommerà una unatantum di 600 euro per vacanza contrattuale. È stata inoltre riconosciuta una giornata di ferie a partire dal 2025 e una rivalutazione degli scatti di anzianità. A valorizzare ancora di più il contratto di lavoro, sottolineano le organizzazioni sindacali, è stato inserito l'elemento di salvaguardia retributivo da riconoscersi dal 2027 qualora il successivo rinnovo contrattuale non avvenisse nei tempi prestabiliti. Gli stessi sindacati precisano che la parola adesso spetterà direttamente ai lavoratori che nelle varie assemblee saranno chiamati a ratificare o meno l'accordo. Ma l'intesa comprende anche un chiarimento normativo a favore dei dipendenti delle autorità portuali. Prendendo spunto dalla vicenda che ha riguardato in particolare i lavoratori dell'ente di Civitavecchia, si specifica che qualsiasi modifica dei contratti integrativi o di secondo livello non può andare a peggiorare economicamente la situazione dei dipendenti storici delle autorità portuali assunti fino al 2016 e interessare quindi solamente quanti sono stati occupati dopo la legge di modifica della legge 84 94 che prende il nome dell'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano del Rio.